Buongiorno, io sono già in treno come potete vedere Allora, qui sta piovendo, io sono arrivata già in uni e ho recuperato dei libri che mi presta la mia amica che tanto ha già dato questo esame ed è in Erasmus, quindi li ho recuperati, adesso vado a comprare un altro libro che così ho per i prossimi giorni che sarò a casa un po' di materiale da iniziare a studiare e poi mi becco con la mia ex coinculina a fare colazione non so se portare alla Red Velvet dove sono stata ieri a bermi il cappuccino che adoro quel posto oppure andiamo qua nel barettino fuori dall'uni anche perché appunto piove e poi io tra un'oretta e un quarto, un'oretta e venti devo andare a lezione libro recuperato e ora aspetto la mia amica eccoci qua con la Sophie che è tornata con una di noi nel mio posticino allora colazione con la mia coinculina, ex coinculina top e adesso sono venuta a lezione vediamo un po' com'è questa lezione ma credo di non frequentarla poi perché c'è l'altro esame a scelta questo vado un attimo in manno e inizia sono scappata dalla lezione e ho spettato un po' perché mi sembrava brutto però tra l'altro mi ha chiamato anche il proprietario di casa e non ho potuto rispondere adesso mancava un quarto o venti minuti sono uscita, non ci facevo più mamma mia, meno male che è un corso a scelta perché ho deciso di seguire direttamente l'altro oltre che mi piaceva di più questo proprio non ci siamo la prof è pesantissima allora ho chiamato il proprietario era meglio non farlo cioè praticamente mi ha detto ah sì, guardi allora oggi dovrebbe arrivare l'elettricista deve iniziare tutti i lavori del vano scale io li faccio guardi, io l'ho beccato ieri l'elettricista che è già venuto e mi ha detto che in giornata avrebbe finito i lavori partiamo vinizio e poi mi fa che devono cambiare dei porti e entro fine mese dovrebbero essere su cioè un mese per mettere delle porte cioè boh, vabbè e poi da lì mandano la richiesta al comune e io gli ho detto ok ma quanto ci vuole e lei lo sa no, non lo so io lo sto chiedendo se sarà informato ho cercato su internet ma non so mi dice un mese su internet e lui eh sì, sono 30 giorni ma speriamo che il silenzio vale senso e io gli ho detto sì ma il silenzio vale senso sono comunque 30 giorni e lui eh sì allora prima di fine novembre sicuro non sono dentro eh ok come rovinarsi la giornata vabbè adesso entro in aula mangio e vabbè allora giornata terminata io ero un po' con un mood così però per fortuna l'ultima lezione il prof è stato fantastico mi ha risollevato il morale dopo comunque appena arrivo a casa di racconto corro a prendere il treno e e torniamo a Casina settimana finita stranissimo c'è la salvezza che sono tutta benissimo breccia rossa e ah ciao noi siamo poveri eccomi scesa dal treno sto passando in farmacia per stafta perché non ce lo faccio più allora io mi faccio sempre fregare in farmacia e quant'altro no vabbè nel senso che mi ha detto che secondo lui io devo fare anche un ciclo di fermenti lattici perché tutta questa infiammazione che ho in bocca sicuramente è dovuta anche poi all'intestino vabbè niente prendiamo questi fermenti lattici quando mi ha detto poi 40 euro di fermenti lattici ho detto sti cavoli però sono per tre mesi è ok vabbè e niente adesso poi mi ha dato anche un colluttorio perché ero indecisa tra il colluttorio e tipo un coso con un applicatore però mi ha detto guarda è lo stesso perché tanto rimane su una patina e quindi vabbè ero indecisa gli ho fatto cambiare 200 volte alla fine ho detto vabbè dammi il colluttorio allora eccomi rientrata a casa ho fatto una doccia stasera ho la casa tutta per me e quindi adesso mi sto facendo una pasta con la ricotta e le zucchine e poi credo che andrò a guardarmi un po' di serie tv mentre mangio perché oggi è stata una giornata un po' tosta un po' difficile dal punto di vista emotivo e e quindi ho bisogno un po' di di prendermi del tempo e stare con me e quindi vabbè poi tra l'altro non non mi ricordo se ve l'ho accennato o meno e ma la mia ex coinquilina mi ha detto che non sa neanche se c'è ancora la mia bicicletta nella vecchia casa appunto perché quest'estate sembrerebbe che i condomini abbiano fatto qualche ruigno di condominio e abbiano deciso di rimuovere tipo tutte ste biciclette che effettivamente anche noi ci lamentavamo perché erano lì dal 15-18 devastate che si vedeva che non venivano toccate da non so quanti anni e hanno fatto pulizia e la mia coinquilina non si è più trovata la bicicletta spero che la mia ci sia perché mi manca solo che mi hanno fatto fuori la terza bicicletta così abbiamo fermato uno e possiamo fermare questa persona sono passata al letto con Tizanina e continuo le puntate poi sto valutando cosa fare nei prossimi giorni perché dato che sarò qua 4 giorni a treviso da sola non lo so forse domani vado a farmi in giro a Padova perché c'è la fiera del libro e buonanotte la dicevo c'è la fiera delle parole e quella che era andata l'anno scorso mi era piaciuta tantissimo improvvisando c'era stata proprio una bella giornata mi ricordo e quindi se riesco vediamo un attimo magari organizzo di andare quindi niente poi se sarò andrò a letto un po' presto così mi ripiglio in modo da di provare il colluttore perché non c'avazzo più questa afta e niente quindi vi saluto come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi invito a lasciare un like a questo video come sempre qui trovate i miei social e io vi aspetto domani ciao